Oggi termino il mio mandato di Presidente del Senato. È stata un'avventura davvero unica, anche se difficilissima. La mia è stata una presidenza inedita, la prima da donna, la prima di opposizione al Senato, la prima tra due emergenze, dal Covid-19 al conflitto tra Russia e Ucraina. Se, come insegna Seneca, le difficoltà rafforzano la mente, penso di aver avuto un'ottima palestra. Oggi porto con me uno straordinario bagaglio di esperienze e un rinnovato senso di appartenenza al Senato.